cortona 1887 circa porta d'ingresso del palazzo del comune in primo piano il bellissimo marmo risorgimentale oggi purtroppo semi nascosto e con l'iscrizione quasi illeggibile in onore del primo re d'italia vittorio emanuele secondo di savoia in prospettiva si scorgono l'elogio del teatro luca signorelli ma soprattutto il ben nutrito albo delle pubblicazioni di matrimonio poi simpatico il particolare delle scarpe del bambino indubbiamente un avanzo di un familiare più grande piazza vittorio emanuele a cortona sicuramente giorno di mercato per capanelli di cortonesi intenti a vendere e comprare merci si notano mulo e barroccio con il conducente e ancora con il fazzoletto sul volto per ripararsi dalla polvere delle strade sterrate di oltre un secolo fa cappello baffi e bastone erano molto in voga tra gli uomini come gonnellone fazzoletto in testa alle donne ornamento scomparso soltanto pochi anni fa dalle nostre campagne scalinata del palazzo del comune ora come allora luogo di aggregazione senza distinzione di censo da nulla paciente al borghese dalla contadina al tranquillo fumatore di pipa con due ragazze in primo piano che si confidano chissà quale segreto interessanti poi i negozi sulla destra uno dei quali sicuramente una mesticheria con macinini e bricchi per il caffè in bella vista cortona oltre cento anni fa era un centro cittadino senza turisti pochissimi ma oltremodo gremito di cortonesi visto che censimento nazionale del 1901 aveva registrato 29.343 abitanti nel nostro comune cifre impensabili adesso purtroppo la bellezza e la vita di una città si misurano con il numero dei suoi abitanti e fino a qualche decenni fa cortona era ancora autosufficiente con le sue istituzioni uffici pubblici negozi artigiani